Il presidente Marco Beccari, il termine di una partita gara 3, vinta davanti a una bellissima cronice di pubblico, una buona prova della Becchieri, insomma una bella serata stata. Sì, da morire, perché sembrava sempre che riuscissimo a fare un break e poi invece ci riprendevano, pubblico fantastico, ma lo sappiamo in casa è una cronice incredibile. Questa era la partita banalmente la più importante, prima di tutto perché se pregevamo andavamo tutti quanti in vacanza, perché psicologicamente era difficilissima dopo le due sconfitte. Sono stati bravi, sono stati bravi ragazzi che hanno dimostrato di avere veramente le palle e nel momento in cui sono andati anche sopra di sette, se non mi sbaglio, verso la fine ci hanno ripreso e di poter essere emotivamente un tracollo, invece ha tenuto e abbiamo avuto una partita incredibile, fantastica e quindi adesso siamo ancora lì e domenica diventa bella.